Bene, abbiamo iniziato la spiegazione con la somma di due numeri, però capite bene che questa parte dell'algoritmo non permette all'utente di interagire, cioè chi utilizzerà quest'algoritmo, immaginiamo una persona diversa da chi l'ha programmato, può solo prendere atto che la somma di 5 e 7 fa 12, non può intervenire né cambiando gli addendi né cambiando la tipologia di algebrica di operazione, somma e altro, e quindi il primo esercizio che io vi chiedo di inviarmi, a proposito per inviare l'esercizio ovviamente dovete salvarlo, state attenti dove andate a salvare sul vostro pc questo file in modo che poi lo trovate e lo inviate. Il software quando salva l'esercizio, guardate qua in alto, io vi ricordate l'ho chiamato prova, lo va a individuare come wrap, è l'abbreviazione di raptor, quindi le tre lettere che determinano l'estensione di questo file è wrap, quindi dovete inviare esattamente questo file. Allora il primo esercizio prevede una implementazione, una miglioria di questa somma di due numeri, e allora andiamo a cambiare qualcosa, quindi il primo esercizio prevede la somma di due numeri, ma guardate che vado a fare, vado a cancellare, ovviamente fermo l'esecuzione perché sono ancora in esecuzione, vedete questa parte verde, mi dice che il programma in questo momento è ancora in esecuzione, vi ricordo che l'abbiamo fatto step by step, quindi questo pulsantino quadrato, con questo quadratino nero, mi da lo stop, e chiaramente vado a cancellare con il clear la console, perché ancora ero in esecuzione. Bene, adesso sono nella possibilità di modificare qualsiasi blocco, vi ricordo che questi primi due blocchi, il primo e il secondo, assegnano il valore alla prima e la seconda variabile. Ebbene io li cancello, guardate, faccio un click, cance della tastiera, un click, cance della tastiera. Ho cancellato i primi due blocchi, cioè in questo modo, in questo momento, l'algoritmo non può funzionare, perché gli mancano due variabili fondamentali nel terzo blocco, che ora è diventato primo. Primo valore non esiste, secondo valore non esiste, quindi come potrebbe il programma inserire questi due blocchi, diciamo, questi due contenuti di variabile in una terza variabile chiamata risultato, che poi sarà quella che alla console verrà rappresentata come somma. Ebbene, in teoria potrei rimetterlo a posto inserendo nuovamente due blocchi di assegnazione, ma abbiamo detto di migliorare il programma. Quindi non vado a inserire un blocco di assegnazione, ma vado a inserire due blocchi di input. Quindi prendo il primo blocco di input e lo inserisco là dove c'era il primo blocco di assegnazione della variabile primo valore. Stessa cosa per il secondo blocco. Quando vado a prendere il primo blocco, con un doppio clic vado a programmarlo. Attenzione che è un po' diversa dalla finestra relativa alla, diciamo, assegnazione. Nell'assegnazione avevamo il nome della variabile e poi, diciamo, il valore che intendevamo inserire in questa variabile. Qua abbiamo la parte di prompt, diciamo, quella che noi vogliamo che l'utente veda. È un po' come l'output. Quindi se io vado a inserire un messaggio, vado a mettere un messaggio per l'utente. Inserisci il primo numero da sommare. Ecco qui. Questo è semplicemente ciò che vedrà l'utente quando questo primissimo blocco verrà eseguito. Ma l'utente che deve fare deve inserire un valore numerico. Dove andrà a finire questo valore numerico? Esattamente nella variabile che io definisco qui in basso. Siccome io nel terzo blocco l'ho chiamata primo valore, tutto attaccato, anche qui vado a mettere primo valore. Perché se la chiamassi con un nome diverso dovrei andare a cambiare il terzo blocco che non fa altro che modificare il valore del risultato con la somma delle prime due variabili. Ecco qua il primo blocco di input. Cosa cambia rispetto al blocco di assegnazione? Il blocco di assegnazione inserisce un valore sempre uguale, fisso, alla prima variabile. Questo no. Questo mi va a sollecitare l'utente esterno a inserire da tastiera un valore che andrà a inserirsi dentro una variabile che sarà sommata a quest'altra variabile che io vado subito a programmare con un messaggio. Potrei anche non scrivere nulla, però l'utente non viene informato su quello che sta accadendo. inserisci il secondo numero da sommare. Ecco qui. Potrei scrivere anche un messaggio ciao a tutti, ma non cambierà tutto, cambia niente, ma quello che fa capire all'utente cosa deve fare è proprio il messaggio. Quindi qua metto secondo valore, sempre tutto attaccato. A questo punto il programma è un po' modificato nella prima parte. Prima avevamo un primo blocco non di input che si caratterizza con questa freccia, bensì un rettangolo che prevedeva un'assegnazione di un numero fisso sempre uguale. Il programma 100 volte lo eseguivo, 100 volte mi dava una somma di 12 tra due valori inseriti direttamente dal programma. Questo no, questo mi dà una possibilità esterna dell'utente a inserire sia il primo sia il secondo valore, sommarli e inserirli direttamente nel risultato finale. Bene, proviamo a eseguirlo, lo facciamo ormai step by step, allargo un po' la finestra della console, vado a inserire il primo, chiaramente non succede nulla fino al prossimo clic che sarà l'esecuzione di questo blocco. Ora ci aspetteremmo una richiesta esterna all'utente che appare qui. Guardate, clicco e mi dice è una finestra proprio, un applet, sembra quegli applet java che in alcuni programmi appaiono e uno deve inserire qualcosa. Questo è il messaggio che ho inserito nella parte alta del blocco di input. Adesso mettiamo un altro valore, ad esempio 8, devo confermarlo con ok e vedete che qui nella parte sinistra delle variabili la prima variabile, primo valore, ha assegnato il valore 8. Chi l'ha dato questo valore? L'utente, che in questo caso sono io stesso, ma poteva anche sedersi un'altra persona e interagire col programma. Mando in esecuzione il secondo blocco, stessa cosa, ma la variabile è diversa e anche il messaggio mi indica che è un secondo valore e do il valore 2. Quindi do ok. Adesso al prossimo step vado a eseguire, il risultato è 10 ma non appare nulla, fino a quando non do un'altra esecuzione e mi dice la console che la somma tra il primo valore 8 e il secondo valore 2 è appunto di 10. Bene, vi faccio vedere come cancellando, azzerando diciamo la console, posso ripetere tutto con questo tasto play che mi dà tutto in sequenza senza dover andare avanti step by step una alla volta. Diciamo che lo step by step lo si utilizza soprattutto quando bisogna trovare l'errore da qualche parte. Quindi vado a eseguire con play, vedete che adesso esegue da solo, mi dà soltanto il blocco quando io devo inserire qualcosa. Vado a inserire 9, ok, metto 10, ok, adesso se guardiamo la console mi dice che la somma tra il primo valore e il secondo valore, eccolo qua, è di 19, 10 più 9, 19. Questo è il primo esercizio da consegnare. Grazie. Grazie.